L'isola pedonale sta creando divisioni e spaccature anche in seno alla maggioranza, a quanto pare, anche se diretti interessati, respingono questa ricostruzione dei fatti. Ieri, a quanto se ne sa, era atteso infatti un consiglio, un ordine del giorno fuori sacco, con la regia del capogruppo di Forza Italia, Giorgio De Matteis, per far rivedere all'aggiunta il provvedimento dell'isola estiva, dopo che però domenica sera il comune, con una nota, aveva ribadito la volontà di tirare dritto, ma alla fine è mancato il numero legale e c'è stata una riunione tra sindaco, assessori vari e Lega. Il capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale, Francesco De Santis, ribadisce che non è un fatto politico, ma fa capire che, pur essendo loro in un certo senso favorevoli alla pedonalizzazione, a livello generale, se la città è contraria, si possono fare degli aggiustamenti sugli orari. Nessun asse Forza Italia Lega, o almeno così dicono, ma solo il bene della città e un ascolto dei problemi che ci sono. Ci sono state delle ricostruzioni che hanno immaginato delle tensioni interne. Il numero legale è mancato, credo per disorganizzazione di alcuni consiglieri comunali, ma non c'è nulla di più davvero. È una questione politica nel momento in cui la politica si interessa giustamente dell'amministrazione e del bene della città. L'isola pedonale di per sé è una questione di buonsenso e anche di civiltà, perché in tutte le città di Europa, piccole e grandi, storiche, che hanno una questione di pregio e di rilievo, hanno l'isola pedonale. C'è l'isola pedonale, va rispettata. Noi l'abbiamo proposta anni fa, quindi è stata una scelta condivisa da tutte quante le forze della maggioranza. Mi permetto di dire che se in questa fase sperimentale di questa nuova isola pedonale insorgono dei dubbi da parte di residenti, commercianti, esercenti, anche di tanti aquilani che poi il centro lo vorrebbero vivere, modificare gli orari non è un passo indietro, ma è semplicemente un andare in avanti, un passo in avanti verso la città. Approciamoci, ecco questo è quello che vorrebbe fare la Lega, approciamoci all'isola pedonale con il buonsenso di chi dice proviamo finché non troviamo la mediazione giusta, ma non tra le forze politiche, perché onestamente anche basta. Troviamola con chi vive il centro, chi lavora il centro. Anche la pezzopane aveva invitato il comune a ritirare il provvedimento, fotografando piazza e vie deserte il sabato. E si registra anche la presa di posizione del capogruppo PD Stefano Palumbo, che sostiene che ciò che è andato in scena con botta e risposta da parte di alcuni politici non serve. Una stoccata pure al suo di partito? Non è dato sapere, ma lo insiste sul fatto che il Consiglio deve autodeterminarsi, fornendo indirizzi chiari. Fatto sta che la faccenda è bollente, perché c'è una spaccatura anche relativamente a ciò che pensano i cittadini. Anche chi ha studi professionali, oltre a molti commercianti, parla di difficoltà di accesso al centro. Una parte di persone continua a ritenere buono invece il provvedimento.